ciao amici e buona serata a tutti questa sera ci prepariamo per fare un lavoretto praticamente esemplificativo di come ho fatto tanti anni fa per realizzare questo bonsai su roccia vi lo faccio vedere adesso da vicino perché poi lo metto di là di dietro perché mi serve un po di spazio qui sopra allora per fare attaccare un bonsai su roccia bisogna partire da una piantina molto giovane tipo questa qua natalea di qualche anno che ho comprato l'anno scorso da silvia c'era un cestino pieno di aceri burgeriani qua l'ho già districata quindi ho dovuto per forza tirarla via per vedere se c'era almeno 20 centimetri di radici e quindi questa qua è la piantina che useremo questa sera una volta ha finito questa operazione di questa serata tutto questo lavoro qua sarà messo in campo in piena terra e lasciato lì crescere per qualche anno almeno tre penso perché questo qui è un acero burgeriano ed è molto molto vigoroso mi diceva molto meno che e l'altro lì oltre alla piantina è necessaria una pietra io in questo caso ho pensato di utilizzare quello che avevo al momento che era più adatto una pietra lavica una pozzolana non molto dovrei fare qualcosa che vada montata qua sopra su questa gobba qua con le radici che scendono di fianco e che poi vada in semi cascata ma questo si vedrà soltanto poi dopo quel tempo perché poi la pianta decide lei come comportarsi come crescere oltre a questa pietra e questa pianta servono il contenito cioè i materiali da utilizzare sono un terriccio misto con tanta pomice e sabbia questi qua sono solo esemplificativi poi il lavoro è già fatto del cheto da sciogliere per bene da pennellare sulla pietra e dalla sabbia normalissima sabbia per compattare tutte le radici contro la pietra qui ci ho il cheto già sciolto e andremo a a pennellare o a spalmare sopra la pietra questo qua serve per fare attaccare meglio la radice sulla pietra e anche per dargli un po di umidità su tutta la pietra per legarla c'è della rafia un bel mazzo di rafia però siccome questa qui è corta io ho preparato e già bagnato dei ciuffettini legati in doppio in modo che possa essere abbastanza lungo per fare il giro intorno alla pietra quindi vista la presentazione che io ho fatto partiamo subito a eseguire e fisicamente questa lavorazione quindi ci abbiamo dei pennelli dei fili degli attrezzi che se è il caso utilizzeremo perché può darsi anche che possono servire dei fili o anche del nastro può essere utile del nastro carta di quello che usa per mascherare perché non si sa le difficoltà che vengono fuori mentre che siamo qui a parlare sembra facile però dopo quando bisogna fare bisogna valutare bene ok qualche richiesta qualche domanda invece di scrivere i messaggi fatemi delle domande che è meglio giuseppe magari è chiaro tutti ma fai magari un rimando a che cos'è il keto e come cosa vuol dire scioglie allora il keto mi hai chiesto che cos'è il keto qua che allungarmi il discorso su questo prodotto si spiegare che cos'è spiegare cosa vuol dire scioglierlo allora il keto è un prodotto giapponese che si usa per fare gli shizuki serve per quelle superficie molto verticali dove devono rimanere attaccate praticamente le piante con le loro radici e si usa questo prodotto qua perché è molto viscoso ed è aderente proprio in confronto ai dietrici normali può rimanere attaccato sulla verticale aiutato con il muschio a rimanere anche diversi anni io in verticale 100% l'ho usato poco però già a 45 gradi a 50 gradi l'ho usato e durato per un sacco di anni quello lì che ho fatto vedere l'anno scorso sul mio shizuki quello lì il tipo kimura l'ho rimasato dopo 20 anni è molto ricco di sostanze di proteine questo qua è un keto fatto da me cioè non è quello che ho comprato però si va a cercare una zona paludosa dove c'è questo fango che è molto molto adesivo che tu praticamente se metti un piede dentro ti rimane la scarpa dentro magari non proprio dove c'è l'acquitrigno ma leggermente distante 5-6 metri si scava si prende questo terriccio qua e si porta a casa poi io lo compongo in tre parti uguali con della torba e della cadama e questo fango di argilloso faccio il miscuglio che poi sto usando qui in questa serata chiaramente in questo caso ho tolto tutti quanti i granuli quelli un pochettino più grossi perché potevano essere fastidiosi visto che io sono andato a spalmare e pennellare e l'ho allungato con un po' di acqua per renderlo più morbido perché questo qua è un po' più esciutto che non era utilizzabile con il terriccio dai shizuki adesso vediamo se funziona su questa pietra qua quasi che non ce n'è bisogno assorbe un casino di umidità però in altri casi come quella pietra che avete già visto prima che è una pietra asciutta secca proprio tipo granito può aiutare la radice mentre che cresce a non farla seccare quindi procediamo alla spalmatura di questo prodotto sopra la nostra pietra io lo sto mettendo più o meno lì dove posizionerò le radici perché cercherò di infilarla dove ci sono già delle cavità che possono essere utili a aggrappare la radice il difficile è poi far rimanere lì la radice perché poi loro quando crescono crescono in maniera spontanea e naturale quindi vanno dove trovano la situazione migliore cioè nel senso che io la metto qua in questa posizione però non sono sicuro che rimarrà in questa posizione però quello che ci serve a noi è che la radice cresca e avvolga la pietra in modo che si crei come un abbraccio noi adesso la mettiamo che è messa lì blanda lenta lenta appena legata con un po' di spago o di rafia ma lei col tempo la sua forza di crescita è molto forte nel senso che l'altra pianta se avete notato si è addirittura crepata ma non il risultato se avete notato che qui davanti c'è proprio si è aperto riuscite a vedere qualcosa? con la forza di trattore della radice mi tocca di fare il lavoro in casa in cucina praticamente stiamo cucinando un bonsai e poi domani farò le grandi pulizie con la forza di trattore per fare questo lavoro qua vi dovete assicurare prima di tutto di avere un vaso abbastanza grande da poter contenere la pietra perché altrimenti dopo non sapete come gestire la situazione io ho già preparato un vaso per contenere la pietra e ho già riempito nel fondo del vaso con il terriccio misto il terriccio generico con tanta pomice dentro e un po' di sabbia con la forza di trattore io penso che con questa operazione qua abbiamo già fatto adesso cominciamo a valutare la piantina dobbiamo tirare fuori questa piantina da questo contenitore molto delicatamente perché le radici sono molto fragili questa piantina qua sapendo in anticipo che avrei dovuto fare questo lavoro qua io l'ho montata su due o tre vasi di questo sistema qua di questa dimensione qua uno sopra l'altro impilati sfondati sotto in modo che lei potesse crescere queste radichette almeno una ventina di centimetri ma fatto in meno di un anno non è che ce li ha messo tanto tempo perché questi qui li ho comprati da Silvia l'anno scorso due quando c'erano i mercatini due anni fa forse l'ultimo mercatino che abbiamo fatto e quindi qui abbiamo più o meno due o tre radichette un po' lunghe ce le abbiamo adesso viene il difficile che avrei avuto bisogno di un socio di un mettiamo via il sabbione in sostanza bisogna fare in modo che la pianta rimanga ferma sopra la pietra e bisogna anche legarla in questo caso qua mi sono preparato io dalla raffia per fare le cose che sono da giapponese però nel caso che non ci riesco c'è sempre lo studio c'è chi usa le fascette c'è chi usa il nastro questa raffia qua l'ho tenuto in ammollo per un po' di tempo per farla bagnare perché così diventa più resistente mi ho preparato diversi pezzettini non sapevo esattamente quanto mi serviva come te l'avevo detto prima devo fare in modo che le radici abbraccino la pianta e incrociano sotto devono andare la destra verso la sinistra e la sinistra verso la destra e nel contemporaneamente avvolgere la pianta cercando di prendere le canaline o la fessura che ci sono nella pietra stessa nella pianta nella pietra stessa adesso noi qui abbiamo una pianta molto lunga io l'ho rimasta così com'era perché siccome voglio metterla in terra ho bisogno di tanto sviluppo vegetativo perché allo stesso tempo mi fa un grande sviluppo a livello radicale perché se la tagliavo corta corta ci andava ancora più tempo per far crescere la tua vegetazione quindi ho fatto questa scelta qua di rimanere la lunga però adesso bisogna vedere in che modo piantarla qua sopra grazie a tutti in sostanza bisogna distribuire le radici sulla pietra magari si può anche legare grazie 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 a tutti grazie 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 a tutti. 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 Di questi fili più ne mettete meglio è. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e potrebbe essere e tutti. 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 e tutti.